Grazie, sono tornata con un nuovo video, un video delle 11 domande vita segreta di una youtuber. Allora, iniziamo. Prima domanda, da quanto tempo sei su youtube? Da un anno. Quando lascerai youtube? Mai e spero mai. La cosa più bella dell'essere youtuber è trasmettere le mie passioni ad altre persone. La cosa più brutta dell'essere uno youtuber è la cosa più brutta non poter avere un contatto visivo con altre persone, con le persone. Poi, quattro, la cosa più brutta dell'essere... no, niente. Cinque, quante opzioni di anteprime prepari? Io registro con un telefono. Non posso registrare con una telecamera perché ancora non ce l'ho, ma appena la avrò io farò un video con quei. e farò le anteprime. La tua cotta su youtube? Io penso di non aver nessuna cotta, per nessuno. Sette, chi c'è sulla tua lista di contatti preferiti con cui collaborare? Allora, io avevo pensato nella make up pepper chocolate, chissà nel make up ragazze così. Quanto tempo passa prima del rec? Cinque? Due? Tre minuti? Sì. Nove. Cosa pensi di youtube e della community? Allora, io penso di youtube che sia bello e ti posso dare anche consigli, ma allo stesso tempo è brutto perché non puoi vederti dal vivo con altre persone, a parte gli incontri che si fanno per Milano e Napoli. Della community penso che è anche una cosa bella, perché è come se sia una famiglia, una seconda famiglia. Scusate. Dieci. Segreti per un canale di successo? Adesso, ehm... Non so dobbiamo essere se stessi. Tagga, la polli, pepper chocolate, gissà nel make up, ehm... io questo video è finito vi mando un bacione grande grande e al prossimo video ciao